Con questo video iniziamo una nuova serie dedicata al mondo dell'e-commerce. Se non l'hai già fatto iscriviti al nostro canale per non perderti tutti i prossimi video. Il 2020 senza dubbio a causa della pandemia di coronavirus e alla riduzione degli spostamenti è stato l'anno di svolta per tutte le attività di vendita online. Giovani e meno giovani hanno colto l'occasione ed hanno aperto la loro prima attività di e-commerce. Il campo specialmente per gli imprenditori alle prime armi è ostico. Questo perché le informazioni online sono molte e spesso contraddittorie. Mettiamo i puntini sulle i. Analizziamo il primo punto. In fase di consulenza preliminare ci chiedono spesso se si può utilizzare la famosa prestazione occasionale per cominciare la propria attività online. Siamo totalmente fuori strada. Questo strumento non può essere utilizzato per le vendite ma solamente per le prestazioni di servizi. Questo non significa che non possiamo vendere occasionalmente ma che non possiamo utilizzare lo strumento della prestazione occasionale. Le condizioni di utilizzo sono simili a quelle della ritenuta d'acconto quindi la vendita deve essere saltuaria e una tantum. Facendo un esempio semplice se volessimo vendere il nostro vecchio cellulare o dei prodotti che non utilizziamo più possiamo tranquillamente inserire un'inserzione su facebook ebay o subito punto it senza necessariamente dover andare ad aprire la partita iva. Se invece acquistiamo uno stock di prodotti, facciamo della pubblicità, mettiamo un sito online sicuramente questa non è vendita occasionale e bisogna aprire sin da subito alla partita iva. C'è poco da fare. Aprendo un account professionale su amazon, su ebay oppure creando un sito attraverso shopify oppure facendo del dropshipping fa in modo che la nostra attività non può essere mai intesa come occasionale. La nostra presenza online sarebbe h24 7 giorni su 7 quindi la partita iva è obbligatoria sin da subito. L'e-commerce è un'attività commerciale a tutti gli effetti quindi come per i negozi tradizionali dobbiamo predisporre tutti gli adempimenti burocratici necessari. Vediamo quindi quali sono l'apertura della partita iva presso l'agenzia delle entrate, l'iscrizione della nostra ditta in camera di commercio, la comunicazione di inizio attività presso il nostro comune e l'iscrizione all'imps gestione commercianti. Tutte queste pratiche vengono inviate con una comunicazione unica chiamata comunica che può essere trasmessa solamente da un entabilitato come un commercialista o una società di consulenza come la nostra. Prima di aprire partita iva però dobbiamo scegliere quale sia la forma imprenditoriale più adatta per la nostra attività. Se siamo da soli alle prime armi la soluzione della ditta individuale se abbiamo anche i requisiti regime forfettario è sicuramente la più consigliata. Se invece abbiamo un'esperienza pregressa con altre ditte oppure siamo più persone che vogliamo svolgere insieme questa attività possiamo anche valutare la soluzione di un srl o una società di persone. Questa fase di scelta è il momento in cui la consulenza di un professionista può fare la differenza per partire con il piede giusto. Noi di partita iva24 mettiamo sempre a disposizione dei nostri clienti una prima consulenza gratuita quindi ti consigliamo di andare sul nostro sito e prenotarla. Prima di salutarci non dimenticare di iscriverti al nostro canale per non perderti tutti i prossimi video sul mondo dell'e-commerce. Grazie a tutti.